Chi è il castigatore del grande fratello Vip, identità svelata dal settimanale Spie è nata una nuova celebrità, il castigatore del grande fratello Vip. Alto 2 metri e 14 centimetri, 51 di piede, ha impensierito Cristiano Malgioglio con sketch e punizioni durante la seconda edizione del reality show di Canale 5. Di chi si tratta, si chiama Massimo Latorre, è un ex giocatore di basket, ha giocato in Serie A per 14 anni nel ruolo Vip, ha militato in squadre prestigiose come Napoli, Verona, Avellino. L'identità è stata svelata dal settimanale Spie, ieri ero un cestista, oggi un bodyguard di cinecittà che, per caso, si è ritrovato a conoscere di nuovo la celebrità, gli autori mi hanno detto che Cristiano aveva paura degli uomini imponenti. E, se mi avete guardato bene, sono uno che si nota, ho subito accettato, peccato che lui ancora mi chiami il fustigatore, ha rivelato ma chi è il castigatore nella vita di tutti i giorni? Un, papà di cinque figli, avuti da due matrimoni. Uno chiuso da tempo, l'altro per fortuna ancora in piedi, i primi tre figli sono nati dalle mie prime nozze e vivono a Napoli, la più grande è 17 anni ed è alta quasi un metro e novanta centimetri, due sono gemelle e gli altri due miei piccolini li ho avuti dalla mia seconda moglie. Sono un gigante buono, aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra, la popolarità, se c'è l'opportunità, perché no, ho già conosciuto la popolarità sportiva, so cosa mi aspetterebbe, mi manca quella televisiva, anche se devo dire che in queste settimane, con il GFB, sto diventando un personaggio. L'isola? L'isola?